Allora, Marco ha fatto l'apripista in bicicletta mentre arriva il 266 che ce l'ha Alessandro perché si è scritto stamani che non ho una lista Riccardo, Riccardo, bravo Riccardo all'arrivo Allora Marco, com'è a farla in bicicletta? Ah, sicuramente è abbastanza dura il pezzo di sterrato perché c'era anche un po' di fango e insomma le ruote si slittavano Poi bella, sì sì, 30 chilometri fatti bene insomma Hai fatto qualche chiacchiera con il primo? Sì, il primo sembrava sentire l'apatita e io, va bene E gli spiegavano il percorso perché sei San Gimignanese e dicevi Guarda, ancora non è niente, chiaramente Però teneva molto bene il passo insomma La discesa di Cantiate che l'anno scorso è insalita, fece tanta selezione Ma la discesa è stata bella, anche lì un po' di dietro e un po' di viscido Però insomma si sono difesi tutti molto bene Bene, un grazie a Marco che ha fatto i 30 chilometri, 29 chilometri e mezzo Con la bicicletta, dando ristoro in quella che doveva venire dietro a me Io gli ho levato col lavoro perché dopo 7 chilometri mi sono fermato Per lui era una rivincita che l'ultima volta che l'aveva fatta in bici Nella discesa di Volterra era caduto, si era spaccato un dente Era andato in ospedale Quindi vorrei che gli facessi un applauso perché era una vittoria, una rivincita che si voleva prendere E sta arrivando il 118 che è Timothy Chaplin del Tisolotto Timothy Chaplin che non è un addietto medico con il 118, ma è un grande ultramaratoneta Ci fidiamo Matteo, dici cosa hai trovato per strada? No, un bel percorso Tra l'altro non avevo mai team, perché ho avuto l'opportunità di vederlo Un po' da Slempio, ho cercato di dare i conoscenti anche di non conoscevo Ma diciamo che alla fine non avevamo messo Ti hanno chiesto aiuto? E mio fratello l'ha trovato Cioè, il suo fratello, la mia è trovata Cioè, no, 176 Ma li vai a cercarli Marco Caini